Ciao a tutti, ignorare le persone maligne fa bene all'anima e al cuore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di tutti i posti in link in descrizione. Allora, chi sono, quali sono le persone maligne? Le persone maligne sono quelle che ci danneggiano fondamentalmente. E in che modo ci danneggiano? Bene, fondamentalmente le modalità sono due. Fondamentalmente le modalità sono due e quali sono queste due modalità? Bene, la prima è che la prima modalità è praticamente quella del condizionamento, cioè le persone maligne sono quelle che ti condizionano. E la seconda modalità è quella dell'abbandono, dell'abbandono affettivo, cioè ti penalizzano, diciamo, utilizzando l'abbandono. Ecco quindi che dobbiamo imparare per difenderci dalle persone maligne a superare soprattutto la paura dell'abbandono affettivo, perché il condizionamento nel momento in cui abbiamo superato l'abbandono affettivo automaticamente accade che riusciamo a superarlo. e infatti io farò un seminario per approfondire questi temi venerdì 15 novembre 2019 a Torino, dove parlerò proprio su come superare la paura dell'abbandono affettivo per conquistare l'amore. Il riferimento è il 333 15 11 703, per tutte le info. Allora, se vogliamo essere felici, quindi dobbiamo acquisire questa capacità A, di riconoscere le persone maligne, B, di avere la forza di, diciamo, dare indifferenza, di isolarle, di non prenderle in considerazione, ignorarle. E questa è la cosa fondamentale, perché la felicità, l'essenza della felicità consiste nel promuovere, nel portare avanti, nel dare energie a tutte quelle situazioni, quelle cose, quelle persone che ci fanno stare bene. E contemporaneamente ignorare, allontanare, non prendere in considerazione, dare indifferenza a tutte quelle cose, persone, situazioni che ci fanno stare male. Ci fanno stare male, ci fanno stare male sia sentimentalmente, quindi a livello di cuore, sia a livello di anima, diciamo così. L'anima è, diciamo, l'anima è quella che è la nostra parte, diciamo, più profonda, la parte con la quale dovremmo identificarci, tra l'altro. Invece spesso deleghiamo agli altri, no? Anche alla nostra anima. Quindi quando accettiamo il giudizio degli altri, ecco, quindi, questo è importante imparare a farlo per superare, diciamo, superare la sofferenza di restare relazionati con persone negative, persone che ti tradiscono, persone che vanno con altri, persone che, diciamo, che ti trattano comunque male, persone che mettono in atto dei gesti di cattiveria nei tuoi confronti. E purtroppo, se noi temiamo la paura dell'abbandono affettivo, riusciamo a, invece, non riusciamo a fare questo. Dovremmo assolutamente imparare a eliminare la paura dell'abbandono affettivo. Cosa che spiegherò, appunto, in questo seminario, venerdì 15 novembre 2019 a Torino, alle ore 20.45, e il riferimento è il 333 15 11 703, per tutte le info, comunque nel box lascio delle info, tenendo presente che dobbiamo renderci conto che, se vogliamo superare, diciamo così, la paura dell'abbandono affettivo, dobbiamo instillare dentro di noi delle credenze. La prima è che noi siamo degni di vivere l'amore, quindi siamo degni, abbiamo la dignità, e di vivere l'amore. E vivere l'amore vuol dire, diciamo, che dobbiamo crederlo profondamente, quindi dobbiamo introiettare dentro di noi questa credenza. Dobbiamo farla nostra, perché altrimenti resteremo bloccati da queste situazioni. E dovremmo credere, dobbiamo anche mettere una nuova credenza, che è quella credenza fondamentale per la nostra vita, che la paura dell'abbandono di fatto è energia, e possiamo trasformarla in qualcosa di positivo, per acquistare la progettualità. Perché chi teme l'abbandono, purtroppo, spesso, ha, chi teme l'abbandono, purtroppo, ha dei problemi di, vive, tende a vivere dei problemi legati alla progettualità. Cioè, pensa che l'amore sia solo una fortuna, per questo teme di non poterlo tenere. tende a vivere la vita un po' come fosse una loteria di capodanno, diciamo così, la vita sentimentale effettiva. Quindi dobbiamo riappropriarci della nostra progettualità, e renderci conto che possiamo utilizzare questa energia per dirottarla, diciamo così, su situazioni più forti, situazioni migliori. Poi, un'altra credenza che dobbiamo acquisire, che si può fare, nel 15 novembre farò anche una meditazione proprio a proposito di questo, renderci conto che non dobbiamo inseguire chi scappa, non dobbiamo inseguire chi ci abbandona, non dobbiamo dare energia alle persone maligne, alle persone negative, alle persone cattive, perché siamo noi che gli diamo energia, non sono le altre persone. E dobbiamo renderci conto che se invece vogliamo sedurre proprio, dobbiamo imparare a farlo vivere l'abbandono, piuttosto che subirlo costantemente, farlo vivere soprattutto a quelle persone che lo manifestano. Ecco, noi abbiamo questa capacità, le credenze sono soltanto, diciamo, delle cose che stanno nel nostro cervello e noi possiamo modificarle, possiamo cambiarle, perché è qualcosa di plasmabile, è energia. L'energia non è una cosa fissa, è un arto che c'è o non c'è, è un qualcosa che c'è o non c'è, ma dobbiamo imparare a usare la nostra mente, a usare i nostri pensieri, a usare le nostre emozioni e paradossalmente usare anche le nostre paure a fini positivi. E possiamo farlo, possiamo farlo, dobbiamo crederci, la fede e fiducia è fondamentale in tutto questo, per poter essere veramente felice, vivere una vita al meglio, diciamolo così. Per questo video è tutto, quindi ti aspetto venerdì 15 novembre, ore 20.45, Torino, riferimento 333 1511 703. Ciao a tutti!